Ci stiamo muovendo e grazie alla collaborazione di tantissime persone siamo riusciti anche a finanziare due ricercatori calabresi con la raccolta del progetto Uniti con Manapigna. Fortunatamente hanno aderito tantissime istituzioni scolastiche e i ragazzi, genitori e così insegnanti che hanno partecipato con molto entusiasmo e noi li abbiamo voluti coinvolgere. Abbiamo divulgato l'immagine di tutte quelle manifestazioni svolte nella nostra provincia, anche in nome dei due ricercatori che sono calabresi finalmente, quindi sa ognuno dove i soldi vanno a finire e in che modo vengono utilizzati. Noi stiamo finanziando due ricercatori, uno per la ricerca come seno e l'altro come carcinoma all'utero. Questo è un motivo d'orgoglio per noi, anche perché grazie a tutti quanti e alla partecipazione di tutti stiamo cercando di fare prevenzione, informazione e divulgare l'immagine pure. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24 Fortunatamente. 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 Grazie.